Il senso di queste due giornate è un inizio, perché l'abbiamo chiamato innovazione come primo meeting per iniziare un percorso di crescita, toccando tutti gli aspetti che riguardano il nostro lavoro. Questo primo incontro è centrato sull'aspetto commerciale, quindi dare un'impronta, una metodologia di lavoro alle aziende in modo da permettere di fare una crescita che sia verso l'eccellenza, quindi un'impostazione di lavoro condivisa e uguale per tutti per quanto riguarda l'ambito Pallax.